Ragazzi, ieri Andrea Agnelli è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport. Sono venuto a saperlo oggi, non ieri. Comunque, il signor Andrea Agnelli ha detto che quest'anno, 2021, sarà peggiore a livello economico, ovviamente si riferisce al calcio, ma ovviamente non solo quello sarà così, purtroppo, rispetto al 2020. Allora, al di là di tutto, rispetto a quelli che mi dicono, questo è un anno difficile per tutti, che poi, ripeto, non è l'anno, non è quest'anno, tu sei arrivato a quest'anno, tragico, disastroso per tutti, però hai fatto mercati di merda già prima, cioè dal 2015 sei sfasciato il centrocampo, non ti è che ripeta sempre le stesse cose, Cardiff, due rivoluzionari lì, invece hai tenuto l'amichetto Allegri, poi sei stato costretto a cacciarlo, perché sicuramente poi nell'anno di Ronaldo anche gli azionisti ti avranno fatto delle pressioni. E questo è l'altro, quell'altro, cos'è che hai fatto? Ti sei circondato di amici, non di professionisti o di competenti, che comunque parati ce lo è, ma non da direttore sportivo, e quindi ci sono stati degli errori fatti in precedenza, a questi fatti di pancia, solo per il brand, o solo per indebolire le scuole italiane, quindi non in ottica Europa, che poi io compreso, perché mai compreso, ho guardato anche video passati miei, io mi sono illuso, ho difeso anche la società, cioè, cazzo, guardandolo da esterno, da adesso, da come sono adesso, cioè, in questo momento, mi verrebbe da dire, cazzo, che ero aziendalista all'epoca, capite? Eppure, cioè, perché ho difeso società? Perché do sempre tempo, poi le ambizioni devono salire da tifoso e anche da parte della società, no? Se non salgono queste ambizioni da parte della società, è normale che poi, dal elogiare la società, che ha fatto delle cose buone, si va a criticarla, perché quel salto di qualità in più non l'hai fatto, ripeto, perché nove anni di dominio in Italia e non vince neanche una Champions League, per me rimane vergognoso, vergognoso, lo sottolineo, lo sottoscrivo, è vergognoso, vergognoso, punto, dobbiamo vergognarci di questo, perché è da 9.000 e 17, 18, 17 giorni, se non sbaglio, che non siamo campioni d'Europa, e non ti tirare fuori 3.000 giorni da campione d'Italia, tirate fuori anche da quanto non siamo campioni d'Europa, che è una cosa vergognosa, sottolineo, perché Liverpool, prima della finale, la prima finale contro la Madrid, fatturava meno di noi, quindi non è neanche un discorso di fatturato, è un discorso sì di soldi, ci sono squadre che fanno le squadre con i soldi, e ci sono società che fanno le squadre con una programmazione e un progetto con gli attori che hanno, punto. Detto questo, il signor Agnelli, che mi dice questa cosa qui, e al signor Agnelli io vorrei chiedere, perché allora, nel bel pieno della pandemia, in estate, dopo Juventus-Lione 2-1, eliminazione della Juventus, tu mi sei venuto fuori a dire, faremo la campagna acquisti, cercheremo di dare entusiasmo all'ambiente, e poi hai preso Pirlo, neo allenatore, perché? Perché avevi già sul gruppone Sarri, e l'anno prima avevi due allenatori sul gruppone da 6-7 milioni di euro l'anno, quindi non volevi prendere e spendere soldi per un altro allenatore di un certo calibro, che poi avrebbe preso appunto una certa cifra. E perché allora hai detto questa cosa qui, e poi hai tirato fuori i nomi da Champions? Perché il nostro è da due anni che è un obiettivo, non più un sogno, poi vai a corrente alternata, perché il primo anno di Ronaldo hai detto questo, poi l'anno dopo hai detto un'altra cosa, che comunque non può essere un obiettivo principale, cioè nel senso che non possiamo basare tutta una stagione sulla Champions League, poi l'anno dopo dici questa cosa qui, dopo l'eliminazione contro Lione, e metti lì fuori i nomi a Champions. Allora, io ho già il mio pensiero. Tu hai detto quella cosa lì semplicemente per non far cadere e crollare ulteriormente la borsa, perché dopo una relazione del genere agli ottavi finali contro Lione era già crollata. Non è neanche un discorso riguardante gli azionisti, perché gli azionisti che tu vinchi la Champions sinceramente se ne sbattono le palle, l'importante per loro è non perderci tanto e guadagnarci soprattutto. Ed è anche giusto così a livello ovviamente di azionisti. Il problema da Juventus, ripeto, è che è un SPA, società per azioni. Quando tu sei un SPA, ragioni più da società, da azienda, scusate, da azienda, quindi guardi gli introiti, le vendite e quant'altro, piuttosto che l'ambito sportivo. Perché a livello europeo, delle top europee, non mi pare che nessuna sia un SPA. Nessuna. Ok? Nessuna. Questo non me lo toglierà dalla testa mai nessuno. E quello è un limite nostro per quanto riguarda l'Europa. Vabbè, detto questo, perché mi hai detto queste cose? Ecco, io voglio far capire agli aziendalisti che mi attaccano sotto questo aspetto. Lì poteva dire sarà un anno difficile per tutti, che poi si sarebbe comunque preso le critiche, sicuramente, ma per colpa degli anni precedenti, ma sicuramente molto meno, perché quelle parole sono state un boomerang per Agnelli. Ed è per questo che si attacca Andrea Agnelli, perché ha detto quelle parole lì, e poi la campagna acquista è portato. Chiesa semplicemente perché non è arrivato a UAR. A UAR è saltato perché Bernardeschi ha detto di no. Quindi non hai avuto un piano B per il centrocampo, come piano B appunto di A UAR, e sei andato su un esterno d'attacco, cioè già lì, anche qualora dovessi vincere la Champions League quest'anno, faccio un esempio, miracolosamente. Sarà, sicuramente, sarebbe un merito più dei giocatori e dell'allenatore, piuttosto che della società, perché quel, diciamo, ragionamento ha fatto capire che non hai neanche una programmazione da qualche anno, perché se tu mi vai su un centrocampista, non ti arriva il centrocampista, e poi quindi mili e vili più che altro sull'esterno d'attacco, significa che non hai l'idea chiare. Ok? Tutto lì. Tutto lì. Due acquisti sono stati buoni, McKennie e Morata. Fine. Questi due. Perché adesso Morata viene attaccato a tutti. I tifosi, quando sono prevenuti verso un giocatore, si dimenticano facilmente di quanto ha tirato la baracca Morata avanti, nei primi mesi, nei quali facevamo molta, molta fatica. Anche da leader l'ha tirata avanti. L'unico attaccante che avevamo, e quindi adesso, soprattutto dopo l'infortunio, sta avendo un calo. Perché qua dicono tutti, Ronaldo adesso è il mese, poi esplode di solito in Champions League, perché per Morata non può essere la stessa cosa? Poi io spero che Krusevski non venga preferito a Morata come secondo appunta, perché secondo me lì sarà, e sarebbe anche lì, come è stato per Abbiolo l'anno scorso, una scelta derivante o derivata dall'alto, perché Krusevski è stato pagato una cifra a Morata, invece poi rispedirò la 3D4, e avresti pagato solo con 15 milioni. È una mia opinione pure quella, però purtroppo ragazzi, in società si ragiona molto di più con le perdite, potenziali perdite, quindi plus valenze, minus valenze, piuttosto che al discorso all'ambito sportivo. No, Juventus purtroppo funziona così. Fine. Bisognerebbe levarsi questo problema, cazzo. Vabbè, questo è il discorso, questo è il discorso, e questa è la mia spiegazione, e questa è perché, questo è perché, questo motivo, ok, è il motivo per il quale, critico, nonostante quest'anno, la società FC Juventus, SBA, perché certe dichiarazioni non andavano fatte, perché io so già perché sono state fatte, però il tifoso medio giustamente dice, tu mi hai preso per il culo, punto. Ok? Buona serata a tutti, sembra comunque fino a fine Forza Juventus, e qualora la società facesse, prendesse a UAR, faccio un esempio, e si iniziasse a ragionare con McKennie, Bentancur, a UAR, per il prossimo centrocampo, come ho criticato la società per quest'anno, e per gli anni precedenti, sarà qui il primo a eroggiare, come ho fatto, fino a 4-5 anni fa, la società, ma fino a che non vedo, cambiamenti, o di società, di soggetti, quindi di personaggi, all'interno di essa, o di mentalità, la vedo dura, a livello europeo, la vedo molto dura, ok? Buona serata a tutti.